Buonasera Feltri, anche Trump risulta positivo al Covid ed è un ulteriore monito a fare attenzione, il virus diciamo è tutt'altro che scomparso. No, fare attenzione a che corda, ma magari fossi io al posto di Trump. Scusi, non la seguo in che senso? Dal momento che la consigliera che ha contagiato Trump, credo si chiamasse Hope X, è una che nel parco auto della figa è una Rolls Royce a due piani con rimorchio, io da questa non solo mi farei contagiare, ma se me lo chiede mi farei fare pure una colonoscopia, ma anche un'ispezione alla prostata. Da come vuole lei? No, ma guardi, non si può non scadere sempre nel... No, ma scada lei, da... Ma no, ma è lei che sta scadendo. No, ma che caso, frega me, ho 77 anni. Ma cosa c'entra? Se devo andare al creatore, tanto vale che ci vada, infettato da una gnocca spaziale. Ma che ragionamento è? Alla quale ho reiteratamente la patola fagiana. No, la fai no. Ma no, è fattuale. Ma no, ma guardi, veramente no. Ma sì, io... Ma se ne tira fuori, no, non si può, non si può. No, guardi, no. È inutile che adesso... Mi fa fare fettri, per favore. Sì, no, prego, prego. Perché se mi fa ridere non riesco a fare fettri con la faccia così che trema. No, vabbè, ho capito. Io per stare con una così a meno di un metro mi farei tutte le patologie dell'enciclopedia medica. Va bene, sentala, prego, direttore. Allora, il Covid, le ricordo che è una cosa seria. Devo dire che la Merkel in realtà ha invitato i tedeschi a venire in Italia perché siamo più sicuri di altri paesi. Ma io mi chiedo perché quella cassettiera umana della Merkel non si fa una vagonata di Wüster suoi, visto che di salumi in pelle umana ne vede pochi. No, 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 prego, guardi, non crei un incidente diplomatico. Ma abbiamo la fortuna di avere meno contagi di tutti gli altri paesi e questa rompiballe che al posto delle nati che ha due fusti di Bex. La prego, la prego, la prego. Ci vuol far diventare un lebrosario che andasse a quel paese. Ecco, direttore, sempre non offendano. Ma no, ma offendano chi? Ma adesso l'offeso sono io dopo che Vanity Fair ha fatto il grande capolavoro della copertina con la Vanessa in contrada nuda. È bellissimo. Ma io dico, ma si può. Ma perché? Scusi, lei disapprova? Ma quale disapprovo? Io mi incazzo proprio. Ma perché? Ma no, ma scusa, tu Vanity Fair, tu l'hai incontrata nuda, non ci devi fare una copertina. Ma come no? Mi ci devi fare la carta da parati, altrimenti per trapessarmi casa devo fare, cosa faccio? Devo comprare 300 copie della rivista? Ah, ma perché? Ma no, ma è un'assurdità. Che merito è una denuncia al Kodakons? Ah, perché lei dice che... A parte il fatto poi che esibire una con dei chili in più sul corpo è una minchiata sesquipedale. Ma cosa dici? Guardi, allora, è invece un'operazione che sdogana la libertà di avere un corpo che non sottostà alla dittatura di certi canoni. Ma cosa cazzo me ne frega a me dei canoni? Ma come cosa gliene ne frega? Ma invece è importante... A me l'ha incontrata fa sangue proprio perché è XXL. Ma non è, a parte che non è XXL. Nella incontrata più ce n'è e più c'è da pastrugnare. Ma guardi che invece la sua normalità... Io mi riferivo al fatto che il problema del grasso è una cosa che interessa solo alle donne. Sono loro che sono in paranoia e sono le uniche che criticano. A noi maschi basta anche solo fare un buco in una mortadella e stiamo a posto. Ma no, direttore, no, ma no, no, no. Ma no, per noi maschi la donna è solo uno scomodo accessorio intorno alla patonza. Ma forse per lei... È praticamente come una bolletta in cui per un euro di corrente devi beccare pure l'inchiapetata di 50 euro di oneri di sistema. Allora, non è sempre così, non può generalizzare. Ma no, ma è così, sì. Sono le donne che stanno a guardare se una la cellulite... Ma ci sono le donne avidiosi? La rifrescita e la caviglia grossa. È vero, tra l'altro. La donna massacra un'altra donna, pure se è lei stessa allo specchio. Allora, è un fenomeno... Infatti, ma lo sa che le donne vanno insieme al bagno, lo sa perché ci vanno? Ma no. Mica per compagnia. Ma come no? Lo fanno per non farsi sparlare dietro dall'amica. Allora, e può essere... Sono come le spie russe che si controllano la vicenda. Allora, sta facendo discorsi sessisti e assurdi contro le donne? Eh, mamma mia! Eh, ma non si può! Se la dittatura della par condicio mi impone di parlare bene delle donne, posso profondermi in elogi per il premier Conte. Eccolo lì. No, di male in peggio. Ma no, ma perché adesso di Conte ne parlano bene tutti, persino Confindustria, dato che tra poco arriveranno i 200 miliardi del recovery fund. E forse è quello, sì. male, quando uno ha i soldi, tutti gli leccano il culo, anche se io alla consigliera di Trump lo farei pure, se ci avesse scritto sul 740, spazio libero per affissioni. La prego. Andrea Zalone, Silvano Belfiore Benda.